Stamattina stiamo qua perché confocati dall'assessore provinciale Adriano Bellagosa dopo che CGL e Will avevano fatto una richiesta di incontro sulle problematiche che assillano i lavoratori presenti sul territorio di competenza del Consorzio Salerno 4. Quali sono le problematiche di questi lavoratori? Ormai da mesi senza stipendi nessuno riesce più a dare delle garanzie per l'aspettanza da pagare ai lavoratori. Sembra che ci sia una diadribba in atta anche perché stamattina il commissario del SA4 che doveva essere presente non c'è. Quindi molto probabilmente questa riunione risulterà il solito buco nell'acqua, ai lavoratori rimarranno i problemi e la politica continua a fare solo chiacchiere. In questo momento c'è bisogno di un'alzata di testa da parte di chi è preposto sul territorio a dare delle garanzie e facciamo riferimento alla provincia e facciamo riferimento per come è previsto dalla legge numero 5 del 5 gennaio 2014 ai comuni capofili. Quindi l'appello va all'onorevole Vincenzo De Luca che si deve muovere l'ostituzione del Ghiato. All'assessore Adriano Bellagosa organizzare quattro consorzi e di avere un confronto finalmente certo, sicuro che dà delle garanzie. Per quanto riguarda visto che la legge prevede nei termini di 45 giorni le amministrazioni comunali non hanno dato atto alla Costituzione dei Ghiato, chiediamo alla regione di intervenire per come prevede la legge in sostituzione di chi non applica la legge numero 5 del 2020. Come già diceva l'amico Leonardo, purtroppo siamo in una situazione normativa che vede migliaia di persone in una condizione di incertezza per quanto riguarda il futuro. Quando riguarda la Will Transporti, sin dal 1 gennaio 2013 la Will Transporti si è sempre detta disponibile ad effettuare i passaggi così come le prescriveva il G26 che per quanto riguarda chi parla era la migliore soluzione per i cittadini e per i lavoratori in quanto la società provinciale che aveva nel 2010 le competenze sul ciclo di rifiuti avrebbe potuto ottimizzare il ciclo e garantire sicuramente i salari alle maestranze in quanto sarebbe stato anche esattore del tributo relativo ai rifiuti in generale. A questo punto come diceva Leonardo è urgente che il sindaco De Luca si muova in fretta in quanto comune capoluogo per la costituzione del lato. Io personalmente ho i miei dubbi che la legge regionale, la legge 5 del 2014 come diceva Leonardo piaccia ai sindaci. Infatti ho la sensazione che nessuno dei sindaci o almeno pochi dei sindaci che fanno parte della provincia di Salerno abbiano intenzione effettivamente di rispettare la legge 5. Molti pensano di fare il servizio improprio utilizzando cooperative spurie per poter ridurre in questo modo i costi del lavoro per quanto riguarda il ciclo di rifiuti. A questo punto ritengo che la situazione si sia fatta grave ed urgente. Bisogna intervenire. Noi stamattina ci aspettiamo dalla provincia, dall'assessore Bellagosa che per quanto riguarda almeno l'impianto di Casalvelino si faccia in fretta per riaprire l'impianto perché si sta lasciando degradare, si sta lasciando morire un impianto che può garantire un certo numero di posti di lavoro nel Cilento che già è mortificato per quanto riguarda il mercato del lavoro. In questo momento sul territorio agiscono aziende private quindi si sta favorendo il privato a discapito del pubblico. È triste pensare che all'impianto è stata staccata la corrente e non c'è più nessuna utenza per quanto riguarda i servizi primari. È triste ancora di più pensare che questi lavoratori se l'impianto non sarà riaperto velocemente non avranno una definitiva collocazione nel ciclo di rifiuto. Per quanto mi riguarda se le cose andranno in questa direzione si sta preparando una guerra tra poveri. Mi auguro che la situazione migliori velocemente abbiano responsabilità in questo senso che lascino da parte in questo momento i loro interessi politici di partito eccetera e si muovano per garantire occupazione ai cittadini e garantire il diritto alla salute ai cittadini che lo pagano in maniera anche abbastanza cara.